È arrivato il momento, sono felicissima, sono felicissima di invitare qui sul palco un'artista cui voglio molto bene, ma una discreta gnoccarlona, come la chiamo io, però ho detto da una donna e soprattutto ne invidio tantissimo la sua capacità di saper suonare in modo percussivo qualsiasi oggetto che esista sulla faccia della terra, può essere il cucchiaio della minestra, può essere la scoppa di saggina, può essere le ossa, basta, perché è veramente una roba infinita. Ma quando io l'ho contattata per suonare il pezzo che vi facciamo ascoltare adesso sul disco, le ho detto senti, io ho bisogno di trovare proprio una percussione, una roba un po' strana che abbia un suono un po' così, un po' cosà, vero? Non ti preoccupare, ci penso io, ce l'ho io l'idea. È arrivata in studio con uno strumento che adesso vedete, ma accoglietela proprio con il calore vero che la merita. La giù si presenti! Scusate, non ti preoccupare, ma questo momento suona perché si è raggiunti. Mi investono, mi investono la cucina. Ma vieni precisi a andare, bravo. Felici, ci divertiamo di più. Hot Nuts! Sono pronti, ragazzi? Oh, tra poco vi facciamo andare a casa, eh? Che i bergamo a scendere, devono subitarsi il flasso al mattino. Ho! Oh, tra poco! Oh, tra poco! Oh, tra poco! Alla prossima! Grazie a tutti 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 Grazie a tutti